Ecco eh, fai patacca, che fai molto eh, bel cesto, le vaschettine, le vaschettine, un'altra vaschettina, un'altra vaschettina, questa si riempirà, Porcini Toscana vi saluta anche oggi trova a tona, castagno e abete, ciao a tutti Porcini Toscana c'è il samanatore, il samanatore di eduris nell'abete, il mitico samanators, ne hanno già trovati due, andiamo a raccogliere il tre, il quattro, e io vado a raccogliere, se lo vedo, il cinque sotto assassino, va lasciato quello bigattato, il maledetto, uno due, tre, quattro, nel giro di due metri quadrati, Porcini Toscana vi saluto con anche un altro mezzo zaino da raccogliere. ecco che siamo in raccolta, in raccolta Porcini in un pienetto, andiamo a vedere prima la raccolta della ghisella che me li ha svitati da davanti, come sempre, alla saman, facciamo una svitatura, via, questo aveva preso un pestone, si dice impara l'arte, metti da da parte, ho le belli, le belli funghetti, adesso andiamo a raccogliere quell'altro, per sotto, sembrerebbe quasi un aereus, però non è un reticolato a gambo lungo, dale, reticolato a gambo lungo, Porcini Toscana vi saluta, si accinge una fungaia nuova ad acqua partita a raccogliere il super anguilano da foglia, la testa nera del faggio, super testa nera del faggio, diamo una polettina, possiamo vedere che lo chiamiamo, totta nato la fungaia e l'anguilano, ciao a tutti, Porcini super Romagna, andiamo a prendere il porcino e quello che c'è sotto la pianta, se ce la faccio senza ammazzarmi, perché oggi proprio non ce n'è, eccolo qua, finalmente il testa nera del faggio, bello, finalmente il testa nera, mettiamolo via, poi ce n'è uno sotto alla pianta, se riescono andare a prendere, è un miracolo, muovala, questo mi sa che resta lì sotto, ma è incavabile, ciao a tutti, spero di farcela, Porcini Toscana, ecco che andiamo a raccogliere il porcino, il porcino delle foglie, il porcino piccolino, Reticulatus chitignanus, ciao a tutti, Porcini Toscana, Porcini Valsemignone oggi, vi ho fatto un bel giro, un giro di novità, fungale nuove, nuove, porcini nuovi, Porcini Valsemignone ragazzi, andate a Valsemignone, ne ho trovato un treno, quanto misto, ciao a tutti, Porcini Valsemignone, che svita da lontano il porcino della giornata, lo scricchiolio del super porcino, lo trovi più bello oggi te? No, oggi abbiamo fatto l'ampline, via, puttana, che mostro, ragazzi l'uscita è eccezionale, saluti i porcini chitignano, l'ovulaccio, questo è un bel bamboccione, è un bamboccio di castagno, emerghezzo, porcherie, un po' di gnocchi, gnocchi buss, castagno, questi sono quelli che tipo a punta leonella raggiù di là, un po' di porcherie, un po' di belli, un po' di tappini da castagno, un po' di edulis, ho fatto una bella trovazione anche oggi, ciao a tutti, Porcini Toscano.